Il sentimento religioso e la storia civile di un'intera comunità sono custoditi in questo piccolo luogo di culto mariano nelle campagne del Gargano a pochi passi dal mare. Da secoli il 9 maggio rappresenta il giorno in cui Vieste si ferma. Migliaia di persone si mettono in cammino percorrendo i 9 chilometri che separano il centro abitato dalla chiesa di Santa Maria di Merino dedicata alla patrona del comune garganico. Tra i fedeli, tanti emigranti rientrati per l'occasione da tutta Italia e dall'estero, grandi e piccini e soprattutto ragazzi. La statua Ligna della Vergine, che durante l'anno è custodita in cattedrale, viene portata in processione dal primo mattino. I fedeli si passano l'effigie della Madonna, racchiusa in una cassa portata a spalla. Secondo la tradizione, la statua fu trovata sulla spiaggia della frazione di Merino da alcuni pescatori. Dato che la località si trovava a metà strada tra Vieste e Peschici, si decise di posizionare la statua su un carro trainato dai buoi. Gli animali si diressero a Vieste e così i pescatori se ne impossessarono. Nella zona di ritrovamento fu costruita una chiesa dedicata a Maria, il cui nucleo più antico risale all'undicesimo secolo. E la Madonna adesso viene guardando il mare, perché diciamo che Vieste prima viveva della pesca, della marineria e dell'agricoltura. Arrivata poi nel pomeriggio, la Madonna inverte il suo sguardo, anziché al mare, ai cambi. E poi l'ultimo tratto della processione guarda Vieste. Secondo gli studiosi, il luogo in cui sorge il santuario coincide con il sito dell'antica città di Merinum. I resti di una villa romana inoltre confermano la presenza di insediamenti umani di epoca paleocristiana.